Ahiaiai Darkroom quanto è straforte all'inizio Già così Adesso è morta Mamma mia C'è veramente terribile Anche lei Che mi uscire se uccidere o no Chloe non si può Non si può Maggio che si avviene tutti ma È legge contrapasso O suo padre o lei Chloe, sei tornato Ho, 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 down Max Hai un uccidio e ora sei tutto per me Sono proprio Sono molto felice che sei qui Tu sembra alto Ma grazie per la mattina Da che stavamo all'inizio All'inizio a giocare in C.S.I. Arcadia Bay Stavamo ancora spazato qui Stavamo a mettere questa informazione Max, ti ricordi che ci siamo passati Stavamo a mettere questa informazione Spero che non stavamo messo Con il tempo Nel tempo Stavamo dormire Non più Sono solo Spazata Benvenuti al mondo reale Max Non credo che Non posso mai dire a Chloe C'è cosa è successo E infatti Difficile da spiegare Ma anche molto forte per lei Chissà lei cosa avrebbe detto Dice No, non lo so Sava mio padre E poi lei moriva No, no, no Però ora sappiamo un po' di cose Quando mi cercano di Mettere tutto nel loro vecchio disegno Stavano indagando su Cosa è successo Venta a Rachel Nel nostro gioco Ho sentimenti forti C'è Nient'altro da dire Che è questo E mo? E mi vuole fare qui? Non posso fare niente E mo voglio alzarmi Posso? Vediamo la grande board E vediamo tutti i nostri pezzi Nel puzzle Ok Allora E qui abbiamo sopra il cartellone Con tutti gli indizi che abbiamo Ecco il margine finale abbiamo visto Questa parte Suo cartellone nella nostra stanza Stanza di Chloe E mettendo tutti i nostri indizi Rachel con Frank È così vicino Ma è così vicino Abbiamo fatto tre cose principali Certo Eh, che cose? Uno Deciprerciare il logico di Frank Due Deci Sì Sì In effetti è vero Posso di poter prendere i soldi E vedo dove si può portare Poi se non si potremmo prendere i soldi Non si può prendere i soldi Non si può prendere i soldi E tu per cosa Questa foto sembrava di un milione anni fa E con tutta a passire il tempo Due volte Però Meglio così a un certo punto Guarda le fuma E E Vi possedermi No grazie Panna estate O lavorava Joyce Sebbene questo nome possa provocare Non solo una differenza scrollata Di spalla di fuori di una piccola città Lo stesso non si può dire che Una piccola cittadina apparentemente Immune a passare del tempo Un tempo a parte dell'industria ittica Da un turismo fiorente La città Non sarebbe successo della prestigiosa Accademia Blackwall E la sua squadra di fubba e di nuoto I bigfoot e lontre Oggi non sollege Adesso I cambiamenti climatici in questa zona Hanno colpito veramente la fauna marina Provocando un'economia stagnante E un turismo limitato Sopridentemente I preschi non sembrano essere stati colpiti Da questi cambiamenti Infatti Prevedono di inanziare a breve La costruzione Di un complesso residenziale Di gusto chiamato Pan Estates Dove lavorare Joyce Nel cuore della foresta Vicino all'Accademia Blackwall Le comunità locali e inattivi americane Hanno già presentato Diverse emozioni Contro questo progetto In quanto rinascerebbe Le terre tribali E esosi naturali E se in effetti è vero Fammi leggere Adesso che i preschi Come pensano potenti Fanno quello che vogliono E non va bene a questo Dobbiamo fermarli assolutamente Qua c'è qui Penso a niente Ok andiamo giù I soldi a Frank O se no Dovevo pigliare i soldi a Frank Dovevamo prenderli Sono stato stupido lì Anche se proprio se c'entavamo Contro i presidi Quindi meglio Non lo so Sono scelte Non l'ho fatto Io l'ho fatto E' fatto E' fatto E' una cosa che mi dispiace Ma cosa è tua Cioè ho fatto anche Potreggiti E sei andato Da fronte di me E tua famiglia è mia E mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace per lui Ma oh David non è Diferente da me Quando guarda Queste foto famiglie Eh sì Lui è diverso Eh non è cattivo Però è troppo Coperto dal suo Essere Oh di Warren No i miei uccideranno La mia che a Chloe mi ha mandato Cosa? Quei magnocca Quindi ti capisco Grande Warren E tu non me Il suo nome Almeno scimmierò con te Almeno che tu non voglia Darci con Chloe Potremmo andare tutti insieme Posso portare solo Un roba di pala alla volta D'accordo No Lai Richard Dove è stato Richard Richard spera Ah sì Su Max Sono un numero Dicevo Volevo farti sapere Che mi fuori A di Kate A verlu Una settimana Il padre A di Kate La nostra famiglia Vabbiamo molto A partecipare So che è passata Tante E ti capiamo E se non potrai venire Kate è il nostro angelo E la tua amicizia Con lei è stata Un benedizione Di tutti noi Dicevo le dettagli Nella questa giornata So che mi parla Non si riega molto Ma voglio che sappia Che Kate Sembra i miei pensieri Mamma mia Questa sua madre Che ci sarei Quando succede Ok Max Questa stai Stai mettendo La giusta Ok Kate Justin Justin Droga Tutto qui Chiede a Nathan Penso che lo conosca E che è Justin Mai visto Eh vedete che nel fiume Ho sentito che fa Di mettere dentro Tutto qui Ah chiede di Frank Tutto che mi chiede Sarebbe sentito alla Di Frank Vuol dire che Prendete giù al fiume Lo sento che si fa Di fiume di vitamina E tu qui Non posso Niente A Giulio Watson Asso del giornalismo Ok Anche rispondo Padre Ok Sì Allora Eccolo è Da qui Bello questo Però Ma quello Chi è Ma che c'è Qui nelle storie Ma chi sei Ma cosa vuoi Assos del giornalismo Pure Non si Un po' Di vedere Cos'è Baciarla Di nuovo E allora Qui c'è Una sede Non dobbiamo Sederci Per dare noi Qua dentro Lui adesso Non c'è Sa più tranquilla Allora Lì c'è L'ha mai detto Che assieme Possiamo andarci E se c'è Più la macchina E infatti Wow That is Serious Padlock On that Locker Hey David Mi Hai Codice For once I don't have time To search for the code I need to find a way To break this padlock Antiché Tu Vabbè C'hai Tempo In teoria Scusami Lo riavvolgi Lo fai Però Deve rompere Vabbè Allora Eccoli Ok Posso usare Quella crowbar Per aprire Il locker E poi La giusta Esatto Abbiamo Soprattutto anche Questo Alla fine Che questo Questo Metto Sembra Molto Sospetto Quel Lucchettone No 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 Che stai Fa Spacca Spacca Oh Easy Easy E che Pidiamo Qui Oh Maps Note Coordinates Photos Of Kate Nathan Oh Sì Lei sa qualcosa Ah Lei sa qualcosa Guarda qui Anche noi Ha controllato Quindi Vabbè Non male Controlla tutti Però Però Posso trovare indietro Andiamo sempre Il quaderno Con noi Scusami Ok Perfetto E poi Poi cosa Non rollo con No Poi no Qua cosa c'è Eh Eh Nostra Scusami Questa Grant mi ha fatto una reazione che assolutamente mi riesce a disposizione. Che ha detto? Non ho avuto bisogno di una telecamera di soveglianza per vedere la sospensione arrivare. Caro Mason. Sì. E anche la scritta non si capisce. E anche la scritta di quella conversazione. C'è più di David Madsen che si incontra l'occhio. Il dovrebbe finire questa lettera per Choyce. Solo che adesso mi ha capito quando ho detto non fare mai nulla per questa figlia di te o quello è. Invece la sua testa si è succeduta sotto i miei occhi. Tu mi hai buttato fuori casa e la mia figlia mi odia per farlo. Ma guarda, hai pentito. Ma stanno sognando con delle cose strane. Non ti ho mai detto. Sei la mia moglie, la mia compagna. Ne so che non dovremmo avere dei segreti. Avevo bisogno di raccontarti tutto. Ma avevo bisogno di più prove. Ah, lui quindi sta indagando. E' prancatiri. Che è itto? Questo è bello vedere. Oh, gizzo. David sta pagando le cose strane. No, vabbè. Qui non c'è più niente. Oltre a Choyce ha distrutto un'altra scuola. Oltre a David è fuori da armato. E mi pensavo a girare l'armato stavolta. Che è proprio lui sta indagando. Che è stato davvero davvero per Nathan? E che ha fatto il suo papà per David? E' un'altra scuola che c'è qui a Cadabay. Però di certo c'è molto altro. E' incredibile il quattro drama che questo luogo ha visto. Yo, Chloe! Siete pronta ancora? Ho bisogno di tornare al mio dormo. Siamo felici? Molto felici. Sì, ho preso il file segreto jackpot. Kate, Nathan e Rachel. Plus alcune coordenze di locazione. David è come un'armata di un'armata di un'amica. Ora vabbiamoci qui prima di riuscire. E' una spia vero lui, il detektivo. Abbiamo bisogno di essere molto attivati. Max, ora è il momento per Nathan Prescott di essere freddo di noi. No, un'altra pistola c'è, non dirmelo. Però sì, possiamo essere appunto Nathan perché lui è quello che ha aiutato David. È vero lui cosa cavolo ha fatto questo? Che correndo c'è fra lui, Kate, la camera bianca che parlava Kate appunto e Rachel? Non lo so. E questo non mi tolgo, tutto dopo un tempo, diciamo. Anche se c'è una morta che piange ancora. Ahiaia, terribile. Ma lui, guarda, questa è la grande, questa è quella che parla col pitello. Tipo, quanto misterioso. Ehi Max, come ti fa? Oh, ciao signor Jefferson. Sono ok. E questo è il mio amico Chloe. Chloé? Perché non è qualcuno così cool come tu che va a Blackwell? Sono molto più cool per questa scuola. È una storia lunga. In reali file è qui. I can imagine. Max, are you sure that you're alright? It's weird being suspended and just walking around campus. Well, you are an adult now. This isn't prison, is it? Not until we get orange jumpsuits. Ah, è che il nostro è che. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. Direi un bel po' di coso, a cadute. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Eh. Hot for teacher. Rose! You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring me. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ok, noi facciamo scusa in tutto questo tempo. E allora... E allora... E allora... Ah, ok. Ah, qual è quella parola del messaggio a noi? Sotto amichetti. Non ci parla con noi, no. Cioè, ciao, pirla. Justin, è stato molto lungo da quando ho visto tu. Perché sei molto più cool per noi adesso, Chloe. Chloe si chiama così facile con Justin. Noi, non ci parla con noi, non ci parla con noi. ho ancora un milioni di domande su cosa succede con Arcadia Bay è vero che la Miss Gantt dice che sei una delle studenti preferite in Blackwell penso che Rachel Amber ha alcuni rispondi se possiamo trovare se Rachel vuole trovare pensi che lei è vivo? che profondo quindi anche lei va bene con Vortex dovrebbe essere trovata nel Vortex fuori ora Max mentre il tempo è a tua parte anche se la Miss Gantt mi piace ho nulla capacità di scienze per raccontare l'eclipso come avevo detto è perché la scienze non ha un'esplamazione non offensi a Miss Gantt ma questo è solo l'inizio e Samuels mi sa che sa un po' troppe cose credo anche ora che il tempo è dalla tua parte o perché sei un giorno che c'è il tempo o... non lo so, sa qualcosa non lo so non lo so non credo che nulla avanti soprattutto il tempo è per questo che posso sentire qualcosa più grande che è venuto e non lo so non lo so non lo so non lo so è... non lo so 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 come? Samuels mi piace tutti fino a che gli hanno un motivo non lo so non lo so è... è tutto non lo so 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 sono un custodio non un psichico eh sì ma dove è nata? lo sai dai non lo so 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 perché 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 tu hai Eh sì, però sei sano. È stato, anche se potremmo fare di più, non parlo di sua madre. È stato, anche se potremmo fare di più, non parlo 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 di più. Eh, bene, andiamo, vai. E appunto, ma che so, tutti hanno la prossima, sono chiedere? Sì. Sì. E là qui. Eh, non è per questo. Ok, ho scelto ad campus, questo è buono. Non sarà questo, altrimenti non lo vediamo. È sempre buono parlare con te, Max. Ma non ce l'ho parla di abbassare. Ma non ce l'ho parla di abbassare. Ma non ce l'ho parla di abbassare. Io dovrei tornare a Chloe. Noi siamo qui insieme. Ma ora potresti avere il Mr. Jefferson per te stesso. Ah, tu stai. Ora andiamo nella stanza di... Nathan. Che sento anche questa famiglia di che lui sta qui nel campus. spero. Sì. 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 Sì.